Tutto dal vivo, rigorosamente in diretta, come sempre. Allora, per l'ultima puntata ci siamo voluti regalare un artista, sì, ticinese, ma che però è praticamente conosciuto anche in tutto il mondo. A livello internazionale, pensate che lui ha condiviso il palco anche con Bruce Springsteen e oggi noi lo condividiamo con lui, quindi è come se noi avessimo condiviso il palco... No, eh? Con Bruce Springsteen? Mi no, eh? Più o meno. Sì, più o meno. Più o meno. Più o meno, Johnny. Sì, dai. Più o meno, sì. E allora, Johnny Duke oggi viene a presentarci alcuni dei suoi vecchi lavori, alcune delle sue novità, perché fra poco uscirà il quarto CD, è accompagnato dalla Dusty Hall Band e questa è Crazy. Allora, come va a continuare. Allora, come va a continuare. mani lasso and I want you and I need you I just wanted to be with you and happy I know crazy I'm just happy to be with you I can walk I can talk but just look into your eyes nothing more and no future I'm just leaving in the past and the rain is coming down in the city full of lights and the people going home thinking about badness day it's a good night it's a bad night but I stay right there with you I can watch and we talk I come home with you tonight I'm a bad man maybe crazy and the time is passing by I don't by the future I just want I want with you yes Johnny Duke and the dusty old band dopo vi conosceremo ai ragazzi crazy musica internazionale musica d'autore l'avete sentito Johnny è anche cantautore autora dei suoi pezzi musica d'autore 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 dei suoi pezzi